salve ragazze e ragazzi benvenuti voi tutti che mi seguite buongiornissimo bentrovati ben arrivati sono Zaire sui tarocchi questo è il mio canale questo è il mio messaggio del giorno per voi messaggio che faccio tutte le mattine alle 8 immancabilmente dove tutte le mattine abbiamo questo appuntamento imperdibile davanti alla nostra tazza di caffè tè latte o succo d'arancia insomma la nostra colazione mattitina colazione con i nostri tarocchi oracoli carte divinatorie eccetera va bene allora vi faccio intanto l'elenco delle carte che ho deciso di utilizzare quest'oggi per voi tutte e tutti allora le famose sibille le norman le famose altrettanto famose carte magiche delle fate abbiamo gli oracoli del cuore gli oracoli di elen le risposte degli angeli i king dell'amore e le sibille di nostra damus ancora abbiamo qui le carte queste meravigliose carte della saggezza della strega di tarocchi e poi abbiamo le carte oracolari carte della divinazione l'oracolo risponde allora ragazze io mi porto subito avanti con il lavoro perché sapete che insomma voi che mi seguite lo sapete per chi per la prima volta per questo video io pescherò una carta caso se uscirà bene se non la prenderò io una carta a casa a caso scusatemi per ogni mazzo di carte e quindi ognuno di questi mazzi darà la sua voce la sua parola il suo pensiero che assemblandoli tutte insieme ci darà il messaggio del giorno questo è lo scopo di questo appuntamento ovviamente è un messaggio care carissime e carissimi che non è riguarda solo la giornata di oggi assolutamente no potrebbe anche succedere oggi ve lo auguro se è una cosa positiva ma non è questo l'intento l'intento è che oggi vi deve arrivare un messaggio un qualcosa che vi deve in qualche modo aiutare in una situazione che voi avete dentro di voi perché questo genere di energia e fa diciamo e fa evaporare su in aria nell'energia nell'etere quella cosa vostra interiore forte più avete forte il desiderio più avete forte la connessione e più prevale sulle altre ovviamente situazioni che ci sta guardate qui ecco qua questa carta che vedete doveva io comunque la tengo presente la lascio qua perché è una carta che si è trovata per puro caso diciamo nell'altro mazzo e questo deve per forza dover significare qualcosa e questa è la carta che invece il suo contributo e qui abbiamo due contributi allora dicevo ovviamente però anche se sono tanti riscontri perché io vi leggo tutte anzi vi ringrazio veramente di cuore delle cose carine e dolci veramente siete proprio la miglior specie di pubblico che io avessi mai potuto cioè se io vi inventavo a uno a uno meglio di così non potevo fare non potevo fare quindi veramente grazie di cuore di tutto ciò che mi scrivete per le vostre carine carinerie ma poi soprattutto per la fedeltà per la fiducia che mi accordate veramente io vi ringrazio dal profondo del mio cuore cioè voi comunque siete la mia forza perché io con le vostre gratificazioni mi sento sempre di più di come dire di fare no sempre fare fare sempre di più e questo è una bella sinergia che si è formata tra noi fra noi insomma voi e io allora che altro vi voglio dire sì che comunque sono sempre interattivi collettivi quasi girato una carta e la prendiamo per cui sempre la dovuta e cautele perché questo un po risuonare su tutti quindi non vi arrabbiate non vi disturbate se non parla di voi parlerà domani dopo domani tanto tutti i giorni e in ogni caso è sempre qualcosina ci sarà anche solo il fatto che magari sapete controllare quella delusione che non parla di voi in maniera diciamo come dire saggia ecco anche questo può essere un come dire un motivo utile ora chiaro che se voi dovete prendere una decisione importante analizzare una situazione importante non potete assolutamente attenervi al risultato di un interattivo collettivo dove si parla di migliaia di energie che ci sono comunque in nell'etere quindi io vi consiglio sempre poi eventualmente di fare approfondire una situazione che vi sta a cuore con un consulto personale dove appunto si parlerà di voi possa data la vostra nome insomma e quindi sarà proprio vostro fatelo con chi vi pare poi se volete farlo con me trovate tutto nei miei diciamo così nei miei video ci sono le step necessari per potermi contattare eccoci qua allora siamo arrivati alla fine abbiamo da pescare solo una carta sapete queste mazzi che io metto che non sono in fila hanno un significato particolare sono una è l'indicazione un altro è un messaggio divino che ci deve arrivare al di là del questo stesso messaggio o può essere inerente al messaggio appunto di cui stiamo andando a scoprire può essere o una forza in più o qualcosa che è proprio distaccato allora scorriamo le carte qui abbiamo conoscenza profonda esce fuori questa carta molto bella poi abbiamo la carta numero 18 il guardiano che sarebbe in realtà l'imperatore vedete questo è l'imperatore dei tarocchi qua si chiama il guardiano ed ha la carta ed ha il numero 18 poi andiamo a vedere poi leggeremo con il nostro libricino perché sapete che qua ci sono dei consigli molto importanti e che comunque non sono i tarocchi normali allora qui abbiamo la carta delle memorie quindi abbiamo il diario abbiamo la carta che il tuo desiderio sta per realizzarsi oh madonna mia ragazze no vabbè vi ricordate la situazione delle due carte nei prossimi mesi matrimonio no vabbè no vabbè allora andiamo andiamo per ordine perché qua già mi sono tutta emozionata qui però centrale c'è una chiusura emotiva a causa dei contrasti e discussioni anche forti però c'è una risoluzione pacifica quindi qua ottime notizie anche la carta numero 35 dei king ci parla di un progredire infatti questa carta ci parla che ci saranno degli ostacoli superati e ci sarà una riappacificazione le sibile di nostra damus ci fanno queste indicazioni le spine quindi questa carta ci indica che c'è stato un momento di difficoltà che insomma che ha turbato la vostra serenità anche la perdita di una persona cara ok che non è detto la perdita che insomma non c'è più magari anche l'allontano l'allontanamento di una persona a noi cara allora andiamo a vedere questa carta numero 18 il guardiano l'imperatore allora dove sta 18 18 18 18 18 eccolo qua allora il guardiano sapete in queste carte si chiama il guardiano allora andiamo a vedere qua è molto lunga la spiegazione ok oddio allora intanto vediamo l'essenza dio fiducia rispetto per se stessi responsabilità onestà armonia speranza protezione questo è tutto quello che è l'essenza di questa carta andiamo a vedere poi diciamo il consiglio allora iniziate ad avere una percezione autentica di voi stessi ed è la capacità di creare la vita che volete chi è del tutto presente agisce con onestà sarà sempre più libero dai limiti dell'ego da quelli dell'invidia e dell'ambizione egoistiche proprie e altrui state scoprendo il vostro valore e guadagnando il rispetto di voi stessi siete pronti a servire qualcosa di più grande per difendere i vostri valori gli altri e il benessere del creato il guardiano vi ricorda di eleggere a vostri mentori le persone più aziane specie se hanno già dedicato una parte della loro esistenza allo svolgimento di questo servizio essi vi rammenteranno qual è la vera forza e che c'è sempre spazio per la speranza ora la magia di questa carta è uscita e guardate attentamente gli alberi quando vi sembrerà che uno di loro vi chiami rivolgetevi a lui come il guardiano allora ragazze questa carta molto molto profonda intanto ci dice che ascoltiamo i consigli di chi ne sa più di noi dell'anziano, della persona che è più saggia perché ha vissuto di più quindi ha più esperienza questa carta ci induce a tenere da parte l'ego l'invidia, le ambizioni cioè tutto quello che ci porta comunque a non avere un contatto con l'essenza perché sapete che l'ego poi copre la vera natura cioè se noi siamo egoici, vogliamo a tutti i costi una cosa non ci leggiamo dentro quella è una voglia di possesso ma non è un vero desiderio che esce dall'inconscio quindi questa è una carta molto bella io vi ho letto la spiegazione e quindi questa carta vi induce proprio a fare una ricerca specifica di ciò che veramente è l'essenza della vita lasciando da parte ego, ambizioni e cose futili e accettando pure il consiglio di qualcuno più anziano quindi un saggio, una mamma, un padre un sacerdote, un psicologo qualcuno che ne sa di più di voi allora qui c'è anche questa carta conoscenza profonda quindi questa carta ci parla di intuito, di connessione profonda con qualcuno o qualcosa una persona anche importante della vostra vita quindi qua qualcosa di magico probabilmente sta per accadere perché qua c'è una connessione due cuori si stanno chiamando eccoli qua i due cuori ragazze, ragazzi cioè questa è una carta che insomma non so se vi rendete conto qua c'è il matrimonio qua c'è una situazione che potrebbe includere il matrimonio e questa situazione succederà nei prossimi mesi cioè non so se avete capito questa cosa ovviamente ragazze, ragazzi non è per tutti e poi contestualizziamo non è per forza bisogno di sposare può essere una relazione stabile una convivenza oppure un rafforzamento di una frequentazione insomma comunque è una cosa che da una situazione come dire un po' spinosa un po' di rabbia di discussioni di una situazione insomma di regresso arriva un progresso quindi qua il vostro desiderio mi dice questa carta si sta per realizzare è bellissima questa carta ci dice devi avere fiducia perché le cose si stanno predisponendo a tuo favore e infatti anche i king ci parlano di progresso questa carta numero 35 il progredire e ci dice proprio che gli ostacoli saranno superati e c'è in atto una rappacificazione e guarda caso vicino esce la carta degli angeli che ci dicono rappacificazione scusatemi risoluzione pacifica quindi qua ragazze ragazzi voi tutti scusatemi un attimo eccomi a voi quindi dicevo qua ragazze ragazzi qua c'è stata una chiusura emotiva vedete rabbia discussioni qua c'è stato qualcosa che insomma proprio ha creato dei contrasti anche forti infatti le sibille di Nostradamus ce lo dicono con questa carta delle spine la carta delle spine proprio indica tribulazioni indica difficoltà ma anche una notizia dolorosa che ha che turba che ha turbato la vostra serenità che potrebbe appunto come dicevo prima essere anche la perdita di una situazione di una persona a noi cara che appunto ho un amico che insomma in questo momento ci è lontani in ogni caso ci saranno stati qua dei segreti che sono stati vedete quando esce la carta del diario delle norman ci parla di segreti di segreti di anche di informazioni nascoste anche di un qualcosa che in qualche modo si teneva nascosto che a voi avete scoperto che però vi porta delle informazioni vi porta degli insegnamenti quindi non è negativo tutto ciò ragazzi niente succede a caso anche se una situazione all'improvviso si inclina c'è qualcosa che non va c'è un motivo dobbiamo capire qualcosa perché no ma la cosa bellissima sono queste carte a susseguirsi meravigliose vedete la carta del proprio matrimonio nei prossimi mesi la carta che questo desiderio si sta realizzando la carta della rappacificazione degli ostacoli superati e soprattutto anche ovviamente quella del guardiano ve l'ho letta ascoltate il consiglio dei saggi ascoltatevi dentro interiormente lasciate da parte l'orgoglio l'ego che non serve a nulla ma anche questa meravigliosa carta degli oracoli della divinazione che ci parla di conoscenza profonda cioè qui voi avete una connessione con una persona importante della vostra vita c'è qualcosa di magico sta per accadere questi cuori si stanno chiamando ragazze meravigliosa stessa vi do anche dei numeri abbiamo il 26 il 10 quindi il 2 il 6 o l'1 oppure il 62 oppure l'8 poi abbiamo il 43 il 4 o il 3 o il 34 o il 7 poi abbiamo ancora il 35 quindi il 3 o il 5 l'8 o il 53 va bene care io vi aspetto tutte e tutti nei commenti mi raccomando fatemi sapere una stessa meravigliosa chapeau per chi insomma si realizzerà ve lo auguro con tutto il mio cuore vi saluto un bacione enorme passate una meravigliosa giornata e mi raccomando appuntamento domani mattina non mancate dalla vostra Zahira ciao ciao